Scioperare perché? Perché in ballo il contratto nazionale di lavoro e la contrattazione in questo paese. Confindustria ha utilizzato il contratto dei metalmeccanici per poter mettere in discussione tutti i contratti nazionali di lavoro e noi rifiuteremo questa impostazione cercando ancora una volta di frenare una deriva liberista in questo paese perché si vogliono mettere in discussione i contratti nazionali di lavoro. Il contratto nazionale di lavoro unisce i lavoratori, la politica vuole dividere e soprattutto in questo momento qui Confindustria. Confindustria vuole utilizzare Federmeccanica per mettere in discussione il contratto nazionale di lavoro. Noi eviteremo questa deriva, uniremo i lavoratori, proveremo ad unire anche una parte della politica intorno a un obiettivo preciso rinnovare i contratti per difendere le libertà e i diritti dei lavoratori.